www.redigio.it e la storia continua Felice Musazzi, attore, autore e regista della Compagnia dei Legnanesi nelle vesti di Capitano della Contrada di Legnanello Siamo nel maggio del 1967, primo anno di reggenza, carica che manterrà per tre anni un regalo che aveva voluto fare a quella che considerava la sua contrada e per la quale aveva anche coniato uno slogan in dialetto per rivendicare al suo popolo l'orgoglio di appartenenza Non riuscì a conquistare la vittoria, ma ottenne sempre il posto d'onore Particolarmente movimentata fu la partecipazione di Legnanello nel 1969 Da prima Musazzi non si presenta alla cerimonia di investitura civile davanti al supremo magistrato Poi non iscrive la contrada alla gara epica del paglio Ma in estremis ci ripensa E con un colpo di teatro, a lui congeniale, alla partenza spedisce un fantino di appena 16 anni Giorgio Ravello Già in pista l'anno precedente E stavolta solo per un soffio è battuto a traguardo da Cuttone di Sant'Erasmo Un'ultima nota Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della morte di Felici Musazzi avvenuta il 4 agosto del 1989 Lo ricordiamo con grande rimpianto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti